Il bisogno d'ordine, il bisogno di concentrazione, il bisogno di dare spazio a quello che in pedagogia si chiama il cosiddetto maestro anteriore, cioè la soggettività della persona, la relazione proattiva con l'ambiente. Sono questi i principi cardine del metodo montessoriano che verrà applicato per la prima volta agli ospiti di due residenze sanitarie assistite ad Arezzo. E' la cooperativa COINEE a sposare quanto già ampiamente dimostrato dagli studi di Cameron Camp a cui è stato dedicato un seminario di tre giorni. L'idea è quella di valorizzare le competenze e le stile delle persone, rispettare i loro tempi, organizzare e strutturare l'ambiente in maniera che loro si possano muovere col massimo dell'autonomia possibile, soprattutto nella prospettiva di prendere in carico precocemente e trattare adeguatamente sui presupposti non farmacologici che si associano a quelli farmacologici appunto all'insorgere della malattia. La sperimentazione avverrà in due strutture, la RSA di Pescaiola e quella di Camucia. Un lavoro innovativo avviato già da tempo nelle RSA gestite dalla cooperativa e che con questo metodo si rafforza. Chiedere all'anziano se si vuole lavare, quindi dargli la possibilità di dargli lo strumento, non si usa una manopola già insaponata, e vedere l'anziano la soddisfazione che ha nel fatto che l'operatore non è così freddo, ma è stato caloroso nel chiedere una cosa che l'anziano già aveva in sé. Ecco, rispolverare quello che l'anziano ha già, cioè il fare da soli rende gli anziani liberi. Amore, lavati il visino, gli occhiolini, brava amore. Questo è un esempio che abbiamo fatto ieri mattina, proprio dopo il corso, e abbiamo provato a stimolare l'ospite con qualche titubanza nell'ospite, perché questi movimenti non sono, però visto che ha dato per ora piccoli passi, buoni risultati.